raga vi insegno a fare questa macedonia gelatinosa buona da pazzi è una roba matta è una roba matta prendiamo l'anguria io ho preso piccolina per farvi vedere ma voi potete prenderla anche da 20 kg dipende quanti siete tagliamo dobbiamo svuotarla tutta 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 schizzato completamente svuotata incominciamo a riempirla con frutti di bosco vari vai buona ma è bellina da bestia poi e voilà adesso prepariamo la nostra gelatina mettiamo il gelidificante voilà mettiamo lo zucchero è facile no accendiamo e giriamo 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 fino a farlo bollire bolle un minuto alexa timer un minuto un minuto è passata e la lasciamo raffreddare a temperatura ambient ambient versiamo la nostra gelatina piano in modo tale che vada bene dentro 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 avete capito dentro rimettiamo il tappo e la mettiamo in frigo tre ore e il giorno dopo questa meraviglia sarà pronta da buonissima alla prossima ricetta raga buonissima all'inizio